Mettano una coppa a internet, sti cuccioli, fanno innamorare tutto quanto, vuoi portare la carta? Vuoi portare la carta? Vuoi le faccio ria? Tutti i tre gommi vanno, guarda, coppe in vedi, senza paura, senza niente, guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard guarda qua mettono dopo all'internet hai capito? qui 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 la 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 qui non è che è difficile come una vanna dita eh? vai vai Gemma via 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 qui qui porta qua via 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 qua qua via via qua brava la la qui 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 ciù qui non è facile come una vanna dita eh? qui guarda una saluta in da saluta tutti e due hanno saluta la 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 vede guarda pui 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 pi poteca dai qua dai brava brava ma quando è bravo questa bimba